Oggi è stata una giornata importante perché ha visto insieme tutti gli attori del territorio, le istituzioni, il mondo sindacale, il mondo della scuola, delle università che lavorano proprio per rafforzarne le competenze. Oggi è emersa ancora di più quanto è importante la formazione continua, non solo iniziale, perché il più delle volte rispetto a quelli che sono i mutamenti del mercato di lavoro necessitano sempre di più competenze ed ecco perché le istituzioni e tutti gli attori che oggi hanno partecipato a questo incontro sono stati animati da questa consapevolezza. Maggiore sinergia sia nella programmazione, un mercato del lavoro che si presenta in maniera sempre più dinamico, che deve incrociare sempre di più le competenze dove oggi una società tecnologica ne richiede, ma soprattutto una formazione continua perché solo questo può regalare un mondo produttivo diverso. Lo facciamo qui in provincia di Benevento dove le direttrici di sviluppo sono maggiormente l'agricoltura, l'enogastronomia e il patrimonio culturale.